andiamo ad aggiungere del dettaglio andiamo ad aggiungere un po' di pulviscolo che avremo proprio in fase di transizione delle nostre nubi per aggiungere un po' di pulviscolo io vi consiglio di utilizzare un pCloud quindi andiamo a crearci un pCloud questo pCloud sarà grande aiutiamoci della vista superiore per crearlo sarà grande quanto l'intera scena o comunque l'intero occhio visivo diciamolo un pochino più piccolo quindi riduciamo le sue dimensioni e per ridurlo vi consiglio sempre di farlo tramite i valori numerici che troviamo nei Basic Parameters e non di utilizzare lo Scalar come stavo per fare poiché essendo delle Particles e degli elementi fisici possono creare dei problemi le scalature non eseguite correttamente come anche magari durante la fase di modellazione quando si va a scalare è sempre bene scalare se si può in maniera numerica oppure resettare comunque poi dopo la sua forma siccome non possiamo utilizzare un Reset X Form sui nostri sistemi particellari cerchiamo di non utilizzarli come visualizzazione in questo caso possiamo utilizzare dei dot e visualizziamo anche in questo caso il 100% in modo tale che siamo sicuri di visualizzare gli interi nostri punti andiamo ad assegnare un numero totale molto elevato per esempio 250 io preferisco quasi sempre lavorare o 500 lavorare con lo Use Total in questo modo io so se non si tratta di flussi particolari so di quante particelle sto parlando so di quante particelle ho in scena e quindi come dovrò dosare la percentuale in fase di viewport oppure come sto lavorando la stessa naturalmente avremo una velocità una velocità che sarà sicuramente maggiore rispetto a quella delle nuvole poiché essendo pulviscolo sicuramente sarà molto più veloce 10 cm per esempio vediamo che però esse vanno praticamente a disperdersi nello spazio possiamo quindi creiamo comunque anche una variazione 25 andiamo a generare un display life e un display unit ok va benissimo anche come siamo impostati adesso andiamo a impostare una specie di limite quindi andiamo a vedere cosa vuol dire lavorare con un limite andando applicare praticamente delle forze delle forze che andranno a trattenere di fatti le particles per creare queste forze ci spostiamo al pannello create space warps force e creiamo un drag un semplice drag il drag ha la funzione di andare a trattenere di fatti le nostre particles per avere una funzione maggiore quindi essere sicuri che abbia effetto anche oltre il suo range che è di fatti il suo range è da 0 a 100 andiamo a impostare un valore di time off a 1000 in questo modo anche se noi andassimo a variare la timeline siamo sicuri che esso avrà effetto anche oltre per collegare il nostro drag force al nostro emettitore di particelle selezioniamo il nostro pcloud con il bind to space warps e lo colleghiamo tranquillamente già che siamo in questa fase verifichiamo di avere il layer attivo quindi andiamo a spostare sulle particles il mio pcloud e il mio drag sul layer delle force in questo modo vediamo che le particles scappano ancora via ma per non farle scappare al 100% selezioniamo il nostro drag e in base all'asse che in questo caso è la modalità lineare quindi avremo come un cubo fittizio che agisce su tutte le direzioni potremo anche utilizzare una modalità sferica o cilindrica andiamo a impostare sull'asse delle z quindi l'asse verticale sia positivo che negativo un 100% in questo modo le particles saranno trattenute del 100% volendo possiamo anche applicarlo per gli altri assi magari applicare un 50% un 50% possiamo portarlo a 0 e 0 in questo modo vediamo che abbiamo comunque della dispersione nello spazio magari allora selezioniamo il nostro pCloud vediamo che sopra nel nostro stack abbiamo un altro drag binding WSM che è riferito al nostro drag quindi c'è stato un collegamento andiamo a variare la vita ad esempio 50 delle nostre particles in questo caso spariscono spariscono perché non abbiamo comunque l'emissione quindi limit stop possiamo portarlo a 100 in questo modo avremo sempre un'emissione ma avremo un controllo maggiore sui contorni del nostro pCloud quindi della generazione delle particles possiamo anche variare volendo utilizzare userate in questo caso portiamo a 125 mettiamolo a 50 forse 25 veramente troppo e limit start lo portiamo a meno 25 in modo tale che già al primo frame avremo un po' di particles andiamo a inserire un'altra tipologia possiamo trattenere anche per le altre direzioni stiamo in camera vediamo che le particles si muovono veramente attentone quindi possiamo portare a 25 25 ok possiamo applicare un'altra forza che ci aiuti a movimentare un po' queste particles quelle del pCloud quest'altra forza è il wind che in questo caso utilizzeremo di default la momento della creazione il wind è planare ma in questo caso utilizzeremo semplicemente uno spherical utilizziamo uno spherical perché non andiamo a creare un vento che soffia quindi i parametri dello strange saranno sicuramente molto bassi se non nulli quindi li portiamo a zero ma andiamo a creare della turbolenza sarà come un nodo che crea della turbolenza all'interno quindi andiamo a impostare un parametro della turbolenza per esempio 0 un valore 0,25 e lo colleghiamo anch'esso al nostro pCloud possiamo impostare un minimo di forza 0,01 in modo tale da vederle muovere oppure ancora meglio potremo creare un altro wind in questo caso però planare ruotarlo leggermente anch'esso collegarlo al pCloud e impostare un parametro di 0,01 come forza stiamoci in camera vediamo di fatti che abbiamo questo pulviscolo che va un po' da tutte le parti volendo questo pulviscolo potremmo anche non renderizzarlo questo è un po' una scelta una scelta nostra andiamo a segnare un materiale ci siamo già creati in precedenza un materiale basilare con lo stesso identico colore che abbiamo utilizzato per la sabbia lo possiamo copiare e incollare paste con un pochino di specular volendo questo specular può essere leggermente leggermente non bianco puro ma leggermente e vi consiglio anche come ambient di andare a applicare un colore nero in modo tale che anche il colore ambientale sia un pochino incidente su di esso lo assegniamo e a questo punto andiamo a impostare la dimensione di queste particles naturalmente le dimensioni di queste particles del pCloud visualizziamole in mesh come mesh saranno sicuramente molto piccole quindi una perché devono rappresentare comunque il granello di sabbia il granello di sabbia ha una dimensione pari al microm quindi molto molto piccola però in questo esempio per vederlo per vederlo un pochino visualizzato va realizzato un pochino più grande diciamo che la visualizzazione la grandezza di 1 o 0,5 può andar bene volendo potremo assegnare 0,5 quindi 5 mm e una variazione del 25 o del 50% in più e in meno quindi avere uno 0,25 e un 1,1 come valore massimo come tipologia io vi consiglio di utilizzare la sfera in questo modo se utilizziamo la sfera vediamo che questa è veramente grande così visivamente possiamo abbassare a 0,25 in modo tale che sia ancora più piccolo poiché la sfera si rifà sicuramente al raggio della sfera quindi sarà un raggio di 0,5 cm e non di 2 cm come era impostato precedentemente e anche essa quindi anche il nostro pCloud tasto destro object properties andiamo a aumentare il motion blur volendo 4 ok renderizziamo per scopolo realizzando una piccola prova è talmente piccola che praticamente anche se io mi isolo isolo la selezione e renderizzo nuovamente talmente piccoli che non si non si notano quasi quindi per una questione visiva andiamo a aumentare un pochino un pelino avere un po' di polvere di fastidio puntuali puntuali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti